Il patente che continuava a sciungere in una bagna con la fresca si è rovinato molto di più di quello che si trova alle nostre spalle, perché non so che sia conservato. E appunto quest'area è molto più sposta al sole rispetto a quella dei Gagliari, quindi appunto vediamo la conservazione, i diversi stadi di conservazione.